Carla, grazie mille per essere qui. È un piacere, Roman. Cominciamo con un argomento che si ripropone continuamente nel contesto politico americano, ovvero questo falso dualismo, la contrapposizione tra l'ambiente e l'energia convenzionale. E sembra che, a livello del dibattito pubblico, non ci sia un terreno comune. Può fare chiarezza? Sì, e dobbiamo essere in grado di dirlo alla gente, in modo che capisca che l'energia americana è pulita e ce n'è in abbondanza. Non la esauriremo mai. Noi abbiamo sotto i piedi più energia di Arabia Saudita e Russia. Ne abbiamo abbastanza per rifornire il nostro paese per secoli e anche per i nostri amici, come gli europei, che ora comprano molta energia russa. Come riusciamo a farlo? Noi siamo altamente regolamentati. Raccogliamo in modo pulito. Spostiamo l'energia in modo pulito e sappiamo che gli idrocarburi, certi li chiamano combustibili fossili, sono stati il motore industriale che ci permette di girare in un interruttore e accendere la luce, avere l'aria condizionata nei mesi caldi e il riscaldamento nei mesi freddi. La nostra vita industrializzata, i lussi di cui ora godiamo, erano sconosciuti fino a 150 anni fa e sono dovuti agli idrocarburi. Quindi dobbiamo estrarli. E grazie al gas naturale americano che la nostra aria è più pulita oggi rispetto a quando ero bambina. Mi permetta di farle una domanda. Sembra che ci sia una spinta verso il net zero. Si. Il piano net zero. Zero assoluto. Ma alcune di quelle politiche che ricadono sotto il nome di net zero? Si. Forse permettono effettivamente emissioni zero a livello locale. Ma se si smette di produrre energia qui e noi, dobbiamo importarla dal Venezuela, come è successo di recente, si aggiunge il costo del trasporto, oltre al fatto che il Venezuela ha norme ambientali meno severe degli Stati Uniti. Giusto. Quindi, in un certo senso, è peggio per l'ambiente. È sette volte più inquinante. E perché non se ne parla? Perché si promuovono le politiche verdi, il net zero? Se si ha a cuore il pianeta nel suo complesso, a questo punto si dovrebbe volere aumentare produzione in America. Perché non se ne parla? Non se ne parla. Penso che sia un piano perverso e antiumano. Se i verdi che vogliono il net zero e che amano tanto questi piani sul clima, gente come John Kerry o Al Gore fossero sinceri, chiederebbero l'uso dell'energia nucleare perché è sostenibile, verde, pulita, ma non sono sinceri. O spingerebbero per l'idroelettrico. E invece no. Stanno eliminando le dighe in California. Noi vogliamo avere tutti i tipi di energia, ma non vogliamo che sia il governo a scegliere per noi. Non vogliamo pagare per un'energia che non è né efficiente né affidabile. Cose come i pannelli solari o le paleoliche, per produrre le quali servono tonnellate di metalli speciali, mentre loro fanno largo uso di idrocarburi. I pannelli solari sono spesso prodotti in Cina, a volte da schiavi. I bambini in Congo vengono ridotti in schiavitù per estrarre il cobalto. Tutte queste cose non rispettano né l'uomo né l'ambiente. Vogliamo davvero cedere il nostro settore energetico al partito comunista cinese che vuole dominare il mondo intero e sta attuando un piano per farlo? Oppure vogliamo utilizzare la nostra energia nazionale, pulita, proveniente da una fonte amica, e anche condividerla e venderne un po' ai nostri alleati? Proprio di recente questa amministrazione ha detto smetteremo di asportare gas naturale. In futuro lo vieteremo e i progetti si sono fermati, ma i nostri amici hanno bisogno della nostra energia. Altri paesi fanno affidamento su di noi. Questo mi porta alla domanda successiva. Quanto impatto ha un cambio di amministrazione? Posso immaginare che se si sta gestendo un progetto, se si ottiene una licenza, si deve fare un sopralluogo sul terreno, scoprire se c'è, diciamo, gas, petrolio o minerali. Poi si inizia la produzione. Posso immaginare che si tratti di un processo di anni, con un cambio di amministrazione, il cambiamento è istantaneo. Quando si è passati da Trump a Biden, c'è stato davvero un cambiamento. Sono successe un paio di cose. Le politiche di Trump hanno messo in moto un'ottima politica energetica. Per la prima volta in 50 anni siamo tornati a essere indipendenti dal punto di vista energetico e stavamo per dominare il settore. Eravamo diventati un esportatore netto di energia. Molte di quelle politiche sono ancora in vigore, ma Biden ha firmato vari ordini esecutivi, come quello per bloccare l'oliodotto Keystone XL. Come lei ha appena detto, ci sono voluti anni di pianificazione in quel progetto, centinaia di milioni di dollari di investitori e poi la promessa di circa 11.000 posti di lavoro ben retribuiti per spostare quell'energia dal Canada al Texas per la raffinazione. Ma con un colpo di penna lui ha fermato tutto. Gli investimenti, le speranze e i sogni di quei lavoratori. La lavorazione affidabile dell'energia. Il modo più pulito per trasportare energia è l'oliodotto. È verde, è pulito. Ora invece è su gomma. I presidenti hanno un grande potere. Infatti è grazie a molte delle politiche del presidente Trump che abbiamo ancora una crescita energetica, anche se ora è più lenta, perché l'amministrazione Biden ha cancellato molte cose. Quindi, se ho capito bene, sta dicendo che con un cambio di amministrazione possono accadere due cose. Firmando certi ordini e certe direttive, per esempio con l'oliodotto Keystone o con la vendita di gas naturale al di fuori del paese, possono in un certo senso fermare quel settore o quel progetto, così come sta accadendo tuttora. Ma poi posso immaginare che qualsiasi investimento futuro venga bloccato, giusto? Gli investimenti futuri vengono interrotti, quindi i costi fissi sono persi. Questo in altri progetti? Sì, e per esempio gli impianti che stavano per essere costruiti per spedire il nostro gas naturale in Europa e i nostri amici sono stati bloccati. E così quegli investitori hanno perso quell'investimento. È troppo inaccettabile per le aziende energetiche, e per gli investitori pensare che tra quattro anni arriva uno che distrugge tutto. Devono dare agli investitori la certezza che, come dice John Kerry, ci saranno combustibili fossili, idrocarburi, per 7, 8, 10 anni al massimo. Non per 30, 40 anni, ma 30 o 40 anni sono quelli necessari per recuperare l'investimento per un grande impianto che dura 30, 40 anni. Loro hanno bisogno di questa certezza per realizzare quel progetto. Quindi quello che dobbiamo fare, come Paese, è riunirci, destra e sinistra, e fare un piano energetico di 100 anni, sapendo già che cambierà, perché negli Stati Uniti siamo molto creativi e innovativi. Ma dobbiamo avere un piano che ci permetta di alimentare il nostro Paese e di crescere, in modo da poter produrre beni negli Stati Uniti. Noi dobbiamo produrre qui. Al popolo americano serve un buon piano energetico, in modo che gli investitori possano investire il loro denaro e che le banche non siano autorizzate a immarginare le aziende del settore energetico, cosa che sta accadendo sotto questa amministrazione. In passato lei è stata ambasciatore degli Stati Uniti in Danimarca. Sì. C'è una cosa che ritengo istruttiva nella storia della Danimarca e della sua energia. Mi corregga se sbaglio, ma da quello che ho capito, la Danimarca è un Paese molto ricco di risorse naturali. Hanno un sacco di petrolio nella loro zona economica, che si estende, come dire, fino a dove si trova la zona economica oceanica del Regno Unito. E ha concesso locazioni a compagnie americane e britanniche per installare raffinerie, siti di estrazione di gas naturale o petrolio. E poi ha dato a queste compagnie l'esclusiva per circa 70 anni, dopo i quali torneranno allo Stato. Io ho l'impressione che questa politica li abbia messi in condizione di sapere che, sì, alla fine avrebbero dovuto cedere la produzione allo Stato e che sarebbe diventata un'impresa statale, però sapevano che per 70 anni potevano recuperare l'investimento. A me questo sembra istruttivo. Potrebbe spiegarci il modello danese e come noi in America possiamo imparare da esso. Beh, in realtà conosco meglio la Norvegia. La Norvegia è ricca di energia e per questo ha il più grande fondo sovrano del mondo. La Norvegia è un grande estrattore di energia, come tutti i paesi nordici. Chiedo scusa, stavo parlando della Norvegia, un mio lapsus. Non c'è problema. Tutto quello che ho detto riguarda la Norvegia. In realtà la Norvegia e l'intera Scandinavia, il nord Europa, è un po' restio nei confronti degli idrocarburi. Pensano di dover essere verdi e ai patto zero e ci sono molti incentivi perversi. In Danimarca, per esempio, c'è una tassa del quasi 200% sull'acquisto di un'auto. In questo modo si disincentiva l'acquisto di automobili, che sono costosissime. Vogliono alzare i tassi dei mutui delle case che non rispettano i requisiti green. Insomma, stanno spingendo i loro cittadini a determinati comportamenti, ma intanto importano il pellet americano, che è legno, e lo bruciano. E per loro è verde. Lo chiamano biomassa. Davvero? Eh, sì. Ma non hanno foreste infinite? Sì, però importano da noi. Curioso. Sì. Le faccio una domanda. Se lei fosse responsabile della politica energetica americana, quali cambiamenti apporterebbe per avere il miglior risultato in America? Allora, qui abbiamo bisogno di un piano credibile che dia agli investitori la certezza che vogliamo usare l'energia americana e alimentare il nostro paese e gli alleati. Ma noi non rimarremo mai senza. Quindi penso che dovremmo dare priorità al nucleare e ridurre le restrizioni, come ha fatto il presidente Trump. Per ogni nuovo regolamento ne ha eliminati sette. Se riducessimo le norme sul nucleare a norme di buonsenso, che proteggano le persone senza punire le aziende, e se rendessimo possibile l'apertura di nuovi impianti nucleari, sarebbe molto ecologico. Quarant'anni di vita per una centrale nucleare non sono pochi. Potremmo investire in questo. In America possiamo sfruttare i nostri idrocarburi e l'energia idroelettrica. Se la gente lo vuole, possiamo avere anche il solare e l'eolico. Basta che non danneggino l'ambiente. Ma gran parte dei componenti della cosiddetta energia verde è controllata dal partito comunista cinese. Io credo in tutti i tipi di energia, ma il governo non dovrebbe stabilire vincitori e vinti, come la cosiddetta legge sulla riduzione dell'inflazione, che è piena di roba green. E c'è un fondo di 400 miliardi di dollari che John Podestà distribuisce a società tipo Solindra per finanziare progetti verdi. Ma in molti casi li installano in stati repubblicani. Il governo non dovrebbe essere parte attiva in questo settore. Questo è il settore dell'industria privata e quando il governo entra in gioco escluda gli investimenti privati. Succede sempre. Io sono americana e mi piace il libero mercato. Mi piace questa libertà e noi vogliamo lasciare che sia il libero mercato a decidere. È sempre più saggio del controllo dall'alto del governo, che è quello che fa il partito comunista cinese. Penso che Solindra sia un ottimo esempio. Se si vogliono più aziende tipo Solindra, basta avere un maggior coinvolgimento del governo, giusto? Esatto. Carla, grazie mille. Grazie mille.